Yod Design nasce nel 2009, è un'azienda che ha due siti produttivi attualmente, uno a Torino e uno a Leni e sta per aprire un terzo sito produttivo. Lavora nel settore della nautica, con i più grandi cantieri nautici italiani, nel settore della vetroresina, sia con fibre di vetro che con carbonio. Partendo da realizzazione di stampi fino a realizzare pezzi grandi in vetroresina o ovviamente in carbonio, che possono essere scafi, coperte, tughe, vassoi, artop, eccetera. Contiamo attualmente circa 230-140 dipendenti fra interni e aziende esterne. Negli ultimi anni la Yod Design ha avuto un incremento di lavoro e un incremento di richieste da parte dei propri clienti che ha portato alla produzione di circa 12-15 imbarcazioni al mese, finite, complete, senza considerare quelle che sono le sovrastrutture e gli artop, quindi un volume di produzione notevole. Si è visto necessario quindi l'acquisto di una macchina automatica per il taglio dei tessuti, sia in fibra di vetro che in fibra di carbonio che pre-preg, apposta per andare ad ottimizzare quelli che sono i tempi ed i costi della produzione. La macchina è capace di tagliare fino a 3-4 strati contemporaneamente e quindi si possono produrre 3 o 4 kit di materiali pretagliati per le imbarcazioni in produzione. Questo ha portato ovviamente ad un risparmio notevole di tempo, perché questo lavoro prima era eseguito a mano da parte di operatori. Ha portato ad un risparmio in termini economici, in quanto il materiale che viene posizionato a bordo è più controllato. Ad esempio anche qualitativamente le scalature, le sovrapposizioni sono controllate e dettate dal nostro ufficio tecnico che sviluppa le matematiche per il taglio dei tessuti e di conseguenza anche il costo viene diminuito e assorbito. Il risparmio in termini di peso di materiali che vengono posizionati a bordo delle imbarcazioni si è attestato anche intorno al 15-20%, quindi un risparmio notevole di peso e economico per quanto riguarda la fornitura dei materiali. Inoltre una macchina che taglia automaticamente i tessuti porta un aiuto anche all'ufficio acquisti, in quanto ogni taglio è uguale al precedente, non si ha più l'operatore che a mano e quindi ad occhio taglia il tessuto e poteva portare a degli scarti, a delle differenze da un'imbarcazione all'altra, mentre avendo il file che è uguale ogni volta il taglio è sempre lo stesso, il consumo del materiale è sempre lo stesso e anche l'ufficio acquisti ha avuto una facilità nella programmazione per l'acquisto dei materiali. Nel momento in cui abbiamo deciso di acquistare una macchina per il taglio automatico dei tessuti, abbiamo fatto riferimento all'FK Group, in quanto è un'azienda leader nel settore, che collabora già con altre aziende, altre importanti aziende del settore della nautica italiana ed è estremamente affidabile e importante a un supporto tecnico sia in presenza nel caso fosse necessario che da remoto. La macchina permette di tagliare tessuti di diverso tipo con diverse grammature che possono andare da 400 grammi, biassiali o multidirezionali con grammature superiori fino a 1700-1750 grammi per metro quadro. La macchina permette di tagliare anche il core dei compositi in sandwich, quindi poliuretano e PVC prevalentemente, con diverse densità e diversi spessori a seconda della testa che viene montata sulla macchina. La macchina permette di tagliare i tessuti in continuo senza dover fermare il rullo e quindi il taglio della lama e inoltre è applicata sulla testa una penna che permette di scrivere un codice identificativo del componente che viene tagliato. Questo serve nel momento in cui la produzione riceve il kit pretagliato per poter andare a capire quale elemento ha in mano e dove deve collocarlo all'interno dello stampo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.